salve gente sto rimanetando un pochino diciamo che bla 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 attenzione sto facendo un piccolo ora che ero soli ho parlato di ades e quale tutte le fotografie parli indietro perché se capisci in acqua e quale tutte le fotografie che ho fatto oggi a oggi 18 del 10 2015 a Porto Bufolè, mia moglie mi ha suggerito di poi immaginarle stando dove ero ecco qua in tante ho fatto in tante venire trovarle ho fatto un po' ecco qua qua è il vostro campeggio disegno non voglio dire è stata una bella giornata mi è molto piaciuto ecco vedi se ti piace e dopo farò un video inerente a questo con tutti i nomi e dei ragazzi che partecipano alla manifestazione intanto ti faccio vedere così queste sono le vostre armi mamma mia ecco questa è la famiglia di compagni, mi hai detto che sono tre generazioni ecco qua non mi ricordo il nome comunque ho cambiato ora adesso mi entrai a Treviso bisogna che parla un po' di italiano che ho preso bene eccoli qua a me piace anche fare le cose serie ma scherzarsi anche sopra questa è la non mi ricordo il nome tra l'otto signorina signorina vedo già parla anche sul cuore se dire no ecco qua ecco qua tutti i ragazzi svegli però beh a favore che simpatico guarda che banda signorina ecco qua ecco qua ecco qua bene questa è la brasiliana questa guarda ok ecco qui è però c'è bene grazie vediamo come la butta Pedro che c'è che c'è Pedro va bene questo è un primissimo piano eh è il Pedro è il dritto eh questa è la tua signora noterese questa è la brasiliana questa è la brasiliana in primo piano qua un po' tutti mi ha sempre quel padre a lui ce l'ha in mezzo che non mi piace mi ha provato io bene ecco questo è il sorgono da casa mia dove sto lavorando con il computer ciao Piero ciao a tutti quanti io chiudo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti